Tommaso Pozzato, presidente ASD Balloon Mondial Onlus. Dal 2012 Balloon Mondial si occupa di usare il calcio per creare integrazione sociale con le comunità migranti di Torino, organizzando la Coppa del Mondo delle Comunità Migranti e tante altre attività, con rifugiati, richiedenti asilo e tutto il mondo. Essere un punto informativo per noi è importante perché il calcio è un luogo di incontro, ma è anche un luogo in cui emergono tante volte gli istinti e a volte gli istinti più beceri sono anche razzisti e discriminatori. Per noi è importante intervenire e segnalare perché se non segnaliamo non potremo mai combattere questa società che va cambiata.